Ombra reale e virtuale di un punto. Passo 0. Rappresentazione spaziale. Oltre a individuare l'ombra reale proiettata dai punti sui piani di riferimento, in molti dei problemi inerenti alla teoria delle ombre, occorre determinare anche le loro ombre virtuali. Per ombra virtuale è da intendersi l'ombra che si otterrebbe, ad esempio, sul prolungamento di π1 oltre la Lt, vale a dire sul semipiano orizzontale posteriore, qualora π2 fosse un piano trasparente. Osserva la situazione spaziale in figura. Nella posizione spaziale in cui si trova, il punto A proietta in A2 la sua ombra reale su π2. Se ora pensiamo che π2 sia trasparente, ecco che il punto A viene a proiettare la sua ombra, virtuale questa volta, sul semipiano orizzontale posteriore e precisamente in A1. Ruotando π1 attorno alla Lt, l'ombra virtuale, A1, viene ribaltata su π2, ossia sullo stesso piano, coincidente con la superficie del foglio da disegno, su cui giace l'ombra reale A2 del punto A. Passo 1. Ombra reale del punto. Disegna la Lt e le due proiezioni del punto. Disegna le due proiezioni, inclinate di 45 gradi, del raggio luminoso passante per il punto. In questo caso, la prima proiezione R' del raggio luminoso incontra per prima la Lt. Dal punto di intersezione, innalziamo la verticale, che incontra R' in un punto A2. Questo punto corrisponde all'ombra reale di A, che in questo caso giace sul secondo quadro. Passo 2. Ombra virtuale del punto. Innalza la verticale condotta dal punto d'incontro della R' con la Lt. Prolunga la R' oltre la Lt, finché non incontra la verticale innalzata precedentemente. Indica il punto d'incontro con A1. Questa è l'ombra virtuale del punto. Costruzione completata Ha individuato ombra reale e virtuale di un punto, nel caso in cui la prima proiezione sia più vicina della seconda alla Lt. Nel caso contrario, dovrai prolungare la R' anziché la R' in modo che sia l'ombra reale sia la virtuale vadano a trovarsi nel primo quadro.